I ragazzi hanno grande vigore, specialmente se così giovani, pieni di aspettative, pieni di qualità come Eric, come Atria e quindi vorrebbero fare tutto e subito, cosa che non è possibile, tutto in una partita oppure addirittura tutto in un tempo mentre invece chi è un po' più navigato, che ha un po' più di esperienza sa che deve diluire la propria partecipazione a una gara nei 95 minuti spesso Eric è un po' frenetico in questo, però ha una disponibilità che è enorme quindi non ci sono problemi, lo vedremo e la sua qualità del saltare l'uomo è una qualità richiesta, mi piace molto beh, ci sono situazioni in cui va fatto e in situazioni in cui non può fatto, però questa è una priorità più importante che leva di mezzo alla tattica spesso